Grazie Presidente. Allora, innanzitutto dichiaro subito il voto favorevole della maggioranza a questo ordine del giorno perché oggettivamente il tema è importante e andare anche incontro a una richiesta della città, tutta poi oggettivamente, credo che sia una cosa importante. Io noto una cosa, devo dire, che con l'avvicinarsi delle elezioni si stanno un po' esacerbando un po' gli animi politici da tutte le parti, però ci sono dei problemi veri, seri, che nessuno nega. Io nel mio intervento ho anche in dichiarazione, in discussione generale, ho anche ringraziato le opposizioni che hanno dimostrato senso di responsabilità in questa occasione specifica. Però, oggettivamente, poi delle volte vengono dette delle cose che non sono proprio vere. Ecco, per esempio, una delle cose che in realtà questa amministrazione ha messo in campo è proprio il monitoraggio di 80 mila alberi e alberi su quali sono state fatte delle valutazioni, le cosiddette VTA, e gli alberi che hanno riscontrato delle criticità ovviamente successivamente sono stati abbattuti. Questo per un appalto che è stato messo in atto all'inizio della nostra consigliatura ed è stata un'operazione che è stata svolta da questa amministrazione. Allora, gli alberi a Roma sono più di 300 mila, è ovvio che sono stati fatti questi controlli soprattutto per quelli delle strade, quelli un po' più a rischio. Questo non basta, bisogna fare molto altro, questa è la ragione per cui votiamo favorevolmente a questo ordine del giorno, perché è giusto dare seguito e con responsabilità porsi i problemi e dare delle risposte e delle volte delle risposte possono essere dati anche con degli ordini del giorno. Per cui i problemi oggettivamente sono stati tanti, l'ho detto anch'io nei miei interventi, in alcuni casi stanno arrivando alcune risposte anche con del ritardo e dunque ci assumiamo anche una responsabilità, però le analisi vanno fatte a 360 gradi e vanno guardate sotto tutti i punti di vista. Le ripeto Presidente e consiglieri e colleghi che noi troviamo condivisibile questo ordine del giorno per cui voteremo favorevolmente. Grazie.